Grave episodio domenica notte in Valle Caudina dove una persona al termine di un'animata discussione con altri due giovani ha esploso un colpo di pistola contro l'auto dei malcapitati. Torna l'allarme per la movida violenta dunque ad Ayrula, che in passato era più volte finito al centro della cronaca per gli episodi registrati il fine settimana. Questa volta, secondo una prima ricostruzione, intorno alle 2 nei pressi dei giardini di Largo Capone, un'auto ha fermato un altro veicolo con a bordo due giovani. Ancora da ricostruire l'intera dinamica della vicenda, ma pare ci sia stata prima una lite verbale, poi il colpo d'arma da fuoco contro il primo veicolo. Il proiettile ha mandato in frantumi uno dei finestrini. Sull'accaduto ora indagano i carabinieri della stazione di Ayrula e della compagnia di Montesarchio, che hanno raccolto la denuncia dei due malcapitati. I militari hanno anche ascoltato le persone presenti durante l'accaduto. Secondo le prime informazioni, gli investigatori sarebbero sulle tracce di colui che ha impugnato l'arme da fatto fuoco. Non è la prima volta che accade una cosa del genere nel Sannio. Come si ricorderà, qualche settimana fatta alle seterme, qualcuno aveva esploso un colpo di arma da fuoco contro un'altra auto.